E' una bambina autistica, da sole si scrive il suo nome, e con che grazie, con che cura! E' anche sediciatissima di se stessa, e che roba, dopo farà un sessanto di gioia però, posso già? Brava, complimenti! Guardate la scritta! Un commento dopo aver mangiato la sabbia? Era buona! E' stato fatto in un video? Certo!